E' bia' qui co' Gold Rush, lotto e lotteria di Aruba introduzendo un nuovo di Raspa e Gana Pa' prome' bia' Gold Rush, ten' dos premio maio di 6.000 florin E' sei in notatura, un record na premio cash pa' parti co' un total di 1.260.000 florin Pidi pa' co' Gold Rush, 10 florin, Raspa e Gana E' bia' Gana e' vacanza e tipo soio, co' dos tecad, no ganador, ne' valor di 10.000 florin Di dos premio, 4 passaggi pa' Puerto Rico, co' un seler e di 3 premio, 5 co' shein' for in cash E' bia' qui co' Gold Rush, lotto e lotteria di Aruba cambiando vida Pa' mas' informacion visita' nos pagina web o Facebook Un felice nochi, buon venino a un altro sorteo di lotto, lotteria di Aruba Buon hai ainda, non sei den hai, 2016, mi nome sta Alexander González Un felice comienzo di 2016, en verdad, mi nome sta Ateguera Yavet Nochi Nos tiñe un sorteo di mas grande, sorteo di lotto di dia Codin' un suma di 85.000 florin I junto con noi, sabenoci, nos tiñe un controlador di lotto E tambe è representante di gobierno La che nos passa over di viaja con Alex, quel sorteo di 4 digits Danke, Adun, segui di viaja per un mie sorteo di 2016, suerte pa' un viitor Nos che recordavo che il sorteo di mas grande pa' veta, lotto 5, co' shein' 90.000 florin d'ampal E' preembolita pa' 14 alle noc, abbolita numero 9, segui po' numero 7 Segui di viaja per numero 9 E' ultimo volita numero 4 9 scelte, 9 4 Non si chiudi viaja che di 2 sorteo di Codin' un 2016, suerte pa' un viitor E' preembolita pa' di 2 sorteo di Codin' un 2016, abbolita numero 4 Segui po' numero 1 Segui da abbolita numero 0 E' ultimo abbolita numero 6 4 1 0 6 E' inutile la numero 4 E' segui di viaja per i 2 sorteo di Codin' un 2017 Segui di viaja per i 3 sorteo di Codin' un 2016, abbolita numero 6 E' ultimo abbolita numero 6 il numero 5 il prossimo buonanotte per il ultimo sortello di Catochi è il 12 di Januari 2016 il numero 4 il ultimo buonanotte è il numero 8 6, 5, 4, 8 per esempio si compra e gana con Catochi il primo buonanotte per il 4 si fa per il Bacchford con il tamale il suo premio se ricordatevi che Bacchford paga 5.000 florini nel primo premio il primo buonanotte per il Bacchford il numero 3 il numero 0 il numero 7 e l'ultimo buonanotte 3, 0, 7, 3 per esempio si compra e gana con il Bacchford il ultimo sortello di 4 cifre per il Bacchford è Zodiac se ricordatevi che in versione solamente 1 florini per il 25.000 florini per il Zodiac il numero 3 il numero 8 il numero 4 il ultimo buonanotte per il Zodiac il numero 4 3, 8, 4, 4 il numero 4 il numero 4 per il numero 4 il numero 4 per il numero 4 il numero 9 Nocci in seguita via la pantalla per controllare il numero del ganador. Abbiamo che ricordiamo quanto è gana con il Zodiac che aveva 4 cifras. Zodiac è un documento di 4 cifras e il signo. Escrivete la cifra di 0 e 9 il signo di suerte. Se puoi metterci qui in alto, potete ganare il valente di 25.000 florini con inversione di solo 1 florin. Se puoi invertire 25 florini, potete ganare il valente di 625.000 florini. Mas puoi invertire, ma potete ganare il Zodiac. In un ubbidario, per il nostro Lotto di Dio, potete ganare solo 2 florini per un florino in somma. Per facilità e ganare il primo non cash instantaneo. Tambi, cattociti in differente vegano al mercato, in maniera caccia a caccia, in the chips, 24K, wild money slot, bankroll, cars and cash e ultima via che ha subito al mercato, 10x the money. Per più informazioni, compro il vegano e quanto è vegano anche da cosa per standard, va loto.arroba.com Seguite via la cuota con il prossimo sorteo di più grande oggi. Grazie, Alex. Se non stavate di viaja per promedare il premio di Lotto di Dio e poi non si seguite per il Lotto 5, il sorteo di avvenoce tiene 85.000 florini. Suerte si ha potuto imboteca per il sorteo di Lotto di Dio e 85.000 florini. Se non stavate di viaja per il numero 6. Ma che il tito di viaja per il numero 7. Il numero 6 è vero, il 9 al 2. Seguite viaja per il numero 7. E numero 4, mi te ripetite, 5 numeri da un ganador, un mesmas avvenoci, 3, 7, 2, 25 e 0, 4. Poi ben, si avuto per il bico del jackpot di 85 mil florini avvenoci. Avuto si l'acqua nel bico del sorteo di lotto 5, con il 190 mil florini del jackpot. Suerte, non è tutto. Però mi è volito per il logo 5. E numero 6, seguite viajo con il numero 34. E seguente, bolita da 35. E seguente, da dire numero 32. E numero 21. Vamo a cuore, il joker avvenoci. E da dire numero 5, mi te ripetite, il numero da un ganador, un mesmas. Che son 34, 35, 32, 21. E il joker avvenoci. E la joker avvenoci. Vamo a cuore, il joker avvenoci. E la joker avvenoci. E la joker avvenoci. come letter gratis per il sorteo di lotto 5 ma vi inseriamo qui con il jackpot di 190 mil florini a voi si, non sta passando di viajan nella pantalla, ma si può controllare e anche questa è la possibilità di controllare il lotto di dia e il lotto 5 mi chiedo a ricordare che a me guarda un'ewega di numero corso di lotto ma si può essere up to date e anche a portata di Porte di Aruba e guarda la mia mini mega di chiamarsi a voi 300 mil florini e si può upgrade con mega plus con 100 mil florini extra per avere un bonita summa total di 400 mil florini ma ben si, abo a comprare con lotto di lotteria di Aruba che è mai dubbida di hungadona e deportista non l'oublia di leggere il Facebook follow il nostro Twitter e per qualche informazione toccando il nostro sorteo o per la nostra promozione visita la nostra pagina web www.lottoaruba.com passano felice nocci e ora vai poco a poco enjoy se boc bebe non sturi se vostri non bebe enjoy buccia sabra nocci e te mangià 12 ore di mardia un felice nocci e bià kikukul brush lotto elote Grazie a tutti.